Oggi vi presentiamo questo ampio bilocale d'acquate, completo di box e cantina. Partiamo dalla zona soggiorno. Balcone. Cucina abitabile appena posata. Camera matrimoniale con balconcino. Bagno finestrato con vasca. L'immobile è dotato di riscaldamento centralizzato con la gestione autonoma. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci allo 0341 35 36 44. Grazie. Grazie. Grazie.